musica 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 i ho fatto da un motoseglie leggo spuso 48 euro ma sento come gattaglia façò, haçò benissimo due settimane dopo e poi si ha bruciato la motosega va a fare la catidaria 45 euro da 48 euro se usiamo di sega se usiamo di sega aspetta se usiamo di sega guarda tu, io devo tagliare niente, ho fraccato tanto ho fatto tutte le sbrase e dopo si va fermato allora l'ho portato in garanzia qui l'uomo della garanzia fa eh ma qua te l'hai usata in maniera impropria no te l'hai usata non te l'hai usata te l'hai usata proprio non voleva cambiare il meme del moro qui non facciamo così non voleva cambiare non voleva cambiare cosa fa? io tagliare un tronco massa grosso e massa sforzo io tagliare solo roba oltre un certo diametro e fa io tagliare una rama non è possibile io tagliare una bancae e non è possibile insomma le stasi sono un mese e che è arrivata in rio e tre settimane si è usata no? no no pensavo volessi fare tu eh gentilmente vedete il porn ah mi voglio farti montare in gabina con Marco per spiegare che è roba ah 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 ha ah 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 mi viene messo trappelluto e più Ehi Franz, monta sul balcone qua di casa non fu sentito ma mattina il motoseglie tra usopo il fosso e mi giro anche l'altra parte ooooooooooo no, piuttosto, sei là che sei sempre buono no, voi dovevo lavorare dovevo lavorare, però ho visto i ricambi di pressa non ho e ho visto la pompa idraulica, se è giusta che altri tu puoi sempre fare il T8 che portavo eh, ci siamo sbagliati a caricare vabbè, posso il corno dato, grande eh, il corno dato no, io dico il 5 e il T8 con il 5 ahahahahah 3, 2, nooo pensava che tu, tu, tu la vedi il freccettino che va indietro sulla mappa 3, 2, 1 vai strafiga, noi siamo più del narzo NICO 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 infatti NICO Bah caraco sto rismontato il cambio stimolato ma Mentre il RESULTO tanto Un palo, andiamo avanti Adesso la ciascetta, lì ho fatto sbondigli e ve lo è la seconda volta che lo fa Ma com'è la mia abitudine di venire dentro, aspettare un attimo, sentire i discorsi e dopo parlare? Mi entro un mutato Mi chiamo Nicola? Io ho capito Anca Edo Siamo? Sì, dopo Anca Edo Siamo Anca Edo ieri sera Sì Dio buon Bestemi Edus di operare la testa ronazzosa E' che deve essere super caro Adesso se gira questa domanda di lui qualcosa, che dice se ti metto la mia testa La prima volta che ho visto cosa passa ora, mi chiamo che stanno sotto una casa in briago e quattro mesi e segue a andare a lavorare Bravo Davvero un'ocità da mesanotte fino a quattro a gaspa Arrivo a casa Anca, questa stanza Più o no in briago Mi è scattato e mi riesco Buuuu Guardo, facciamo una farina bianca, butto patara. Se devo fare un dolce. Faccio fila e niente. Mi mamma dice, che cazzo hai fatto, coglione, questa mia casa per cucù. Sono io a casa, non posso aiutare. Tira dritto, va sul divano, dormivo... fino a die quattro del mattino del giorno dopo. Oddio... Madonna di Dio... Quei tempi. Maggi per i miei. Oddio, bene, bene, perfetto. Sì, proprio che è, perfetto. Appena muoia dagli lockdown. Cos'è questo bullismo verso i mezzi svizzeri? Migretto. Si, agriga l'herbo. Puoi fare l'amante di Kenner? Beautiful, c'è l'amante di amante. Ma... Eh, vabbè, stessa. Ma qua ci fa questa puttana nel pick-up? Sì, stessa. No, Nicolò. Tu è una squadrina da quattro soldi. Eh, dillo quella... Dillo quella remoscia. No, ma ci aiuto gli uomini... Vabbè che non è il mio canale. Vabbè che ho a caricarlo su YouTube, non sui porn. Puoi riparare tipo... Kenner, sono arrivata! Vai, vai, tutte puttanate di sto mondo. Ma non sembra bene. C'è una... C'è una pussy calda. Eheheheh... Vi testi nell'atto per incitamento alla pornografia. Eeeeeh... Sarà il canale? Si, eh, che c'è anche Lucas, si. Eh, ci sono, ci sono. Eh, bom, bom. Orco adesso. Eh, dici che magari ti senti una pittura delle ame... In buca. In buca. E ho spuso, no? No, no, le ame si beve. Oh, Lucas. E ho spuso, no? Oltre che ho spuso, ma anche le pitture si fa... ...traccio. Eh, dillo bere... E bere il caffè latte che ti ha ploff. Dillo fa il caffè latte... ...con il dito... ...l'etame della tua vita. Ah, no, sto con un seccio 40. Oh, volevo amare 6... ...o di 7. Eh, Marco possiamo iniziare. 3... 2... 1... No, ma vai figlio! Segui, segui, segui. Oh, Marco, vuol ben crociato e io lo so... ...ma bene prima. Segui, segui. Come se è incecato se una piazza di sosta dei Tornanti. Esatto, eh, stigli. Uno ho provociato e l'altro mi chiedi. Se me vedi tutti e... ...e... ...l'altro mi chiedi. ...e l'altro. Dove... Dove si io? Dove si io? Il figo! Penso che si... ...podriam... ...podriam... Eh, è là! Si, da su. Qua, 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 qua. Perfetto. Eh, infatti non ti possiamo parte là. Si, si, giusto, giusto, proprio. Allora abbiamo che giri a destra o adesso? Oh, F mentorshipi... Ol, feta no non in giro, ma, che riesco a fare! Macfie cosi faccio doppiare... Cee, arrivo io... Ah, fa un culo! Ah! Oh, ah! Bastardo! Pezzente! Vedete che DRAVOK ha tutto bello un tu. Aspetta, 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 ripeti questa cosa qua che registro, ripeti. Ragazzi, iniziate a spumare i canali, aspetta che mi fanno 60.000 canali fake. Esatto. Beh, ragazzi, facciamo ciascuno, quanti siamo dentro qua? 10.000? 10.000 testa che ne fermo. 10.000 testa, direi. 120.000 iscritti. Aspetta, puoi dare sempre gli account anche dei nostri genitori? No, ma bisogna che sia iscritti veri, che segui, che guarda tutti i video. Eh, guardate. Sì, ciao, è impossibile. Che ora si chiama paschei e qui pago il puttantur. Marco, te hai 47.000 iscritti, 41 da qui guardano anche i 2.000. Oddio, contento che fa in medie 5.000 visualizzazioni, sono 40.000 iscritti inutili. E con questo abbiamo concluso, grazie dell'attenzione e arrivederci. Bella raga!